Buongiorno elettori di Bergamo News, oggi siamo in compagnia di Giorgio Gori, da poco eletto al Parlamento europeo, buongiorno, grazie per la sua presenza, grazie per il suo tempo. L'inizio dei lavori al Parlamento va di pari passo anche con degli altri grandi avvenimenti politici che non sono avvenuti in Italia, ma che sono avvenuti anche in stati che fanno parte dell'Orione europea, solo qualche giorno fa il primo turno in Francia, tra qualche giorno il secondo turno in Inghilterra, ma poi se vogliamo guardare anche un po' oltre c'è anche tutta la partita dell'America, che è una partita decisamente importante. Un anno importante questo, riusciamo a magari… Allora, proviamo. Allora, in Francia succede che le elezioni europee confermano l'avanzata della destra, una destra dove va immaginata un po' più estrema della destra italiana, più simile vogliamo, se possiamo dire, alla Lega di Salvini di oggi, non quella di Bossi, ma di quella di Salvini di oggi. Un partito, questo guidato dalla Le Pen, con forte relazione con la Russia, finanziato anche da quel paese e quindi con una posizione molto diversa, per esempio, da quella della Meloni sulla politica estera e sul tema della guerra in Ucraina, che però è riuscito negli anni via via a guadagnare consenso in un paese in cui, a parte chi vive a Parigi e nelle grandi città, si sente abbandonato. Il governo di Emmanuel Macron progressivamente ha perso capacità di interpretare il sentimento dei suoi cittadini, di trovare una sintesi tra il bisogno di protezione e la prospettiva di sviluppo, di crescita e di apertura e quindi Macron, visto il risultato delle europee, molto pesante per il suo partito, ha preso il 14,5%, ha deciso di accelerare la resa dei conti, di non rimanere il Presidente della Repubblica Francese, come sapete, ha poteri molto più estesi che non il Presidente italiano, è una Repubblica semipresidenziale, viene eletto in una elezione dedicata, diretta, che non è però unita all'elezione dell'Assemblea parlamentare e quindi ha detto che non posso stare qui tre anni ad aspettare che le cose precipitino, perché il rischio è che nel 2027, quando si torna a votare a quel punto, l'Assemblea nazionale si prenda anche il Presidente della Repubblica, a questo punto la Francia ce la siamo giocata per sempre, per sempre, per un po', e quindi ha detto andiamo a votare, vediamo se i francesi si rendono conto di qual è il pericolo a cui stanno andando incontro. Ha convocato le elezioni di lì a tre settimane, che è una roba inimmaginabile per noi, cercando di suscitare una reazione da parte della Francia che non vuole la destra al potere, tale da impedire che quest'ultima possa governare il Paese. Il risultato è il primo turno, le elezioni sono in due turni, distanti una settimana, il primo turno è stato, anzi prima ancora delle elezioni è successo questo, che lo schieramento di sinistra in 24 ore si è unito, ed è nato in risposta al rischio che la destra potesse affermarsi, un nuovo fronte popolare in cui sono mescolate tante formazioni politiche, socialisti, comunisti, verdi, una formazione di estrema sinistra che si chiama la France insumise, la Francia indomita, e questo fronte popolare ha ottenuto un risultato piuttosto buono, non quanto la destra che ha vinto le elezioni. Chi è andato male, o è andato meno bene degli altri, è stato proprio il partito del Presidente, che però va notato in tre settimane ha guadagnato comunque sei punti, cioè la scommensa di Macron di suscitare una reazione in parte è avvenuta, c'è stata un'affluenza di 20 punti più elevata che nelle scorse elezioni europee, vuol dire che i francesi sono svegliati, la sinistra si è improvvisamente unita, ha messo da parte tutte le sue tradizionali divisioni, lo stesso partito del Presidente pur arrivando terzo, ha preso sei punti in più. Cosa succede? Che nel secondo turno, mi fai spiegato delle cose complicate, nel secondo turno, una settimana dopo, domenica, in ogni collegio, sono 200-300 mi pare più o meno i collegi elettorali, sono piccoli, se qualche candidato ha già ottenuto il 50% dei voti è già eletto, se nessuno ha ottenuto il 50% dei voti vanno a ballottaggio, ma non necessariamente solo i primi due come noi siamo abituati a fare in Italia, ma chiunque abbia ottenuto almeno il 12,5% dei voti degli aventi diritto, quindi vuol dire che in molti collegi, visto che c'è stata molta partecipazione, i candidati potenzialmente sono tre. Qui è scattata la seconda parte dell'operazione di salvataggio della Repubblica, ovvero il partito del Presidente Macron e il nuovo fronte popolare, cioè tutta la Sinistra Unita, che si sono fatti una guerra pazzesca in questi anni, hanno deciso di mettersi insieme, cioè hanno deciso di far ritirare il candidato tra i due che si trovava in una posizione più arretrata, quindi va al ballottaggio solo un avversario della destra che a quel punto cerca di canalizzare la somma dei voti propri e quelli del candidato che si è ritirato. Questo tentativo, questa operazione di desistenza, così si chiama, ha prodotto in poche ore il ritiro di 220 candidati che erano arrivati terzi e che quindi avevano meno possibilità ovviamente di vincere il collegio, perché in ogni collegio vince solo il primo, passa, è un uninominale a doppio turno, quindi va in Parlamento solo il candidato che arriva primo. Per aumentare le possibilità di arrivare primo contro quello della destra, il partito di Macron e quello della sinistra si sono messi insieme e hanno fatto ritirare il candidato più debole. Questa cosa secondo me rischia di funzionare, quantomeno funziona come barriera, a questo punto dopo aver spiegato tutta questa roba qua, dico come la penso, dico che l'operazione è un'operazione secondo me intelligente, perché per la Francia un governo di Marine Le Pen sarebbe Marine Le Pen, probabilmente ci andrebbe il suo delfino, questo 28enne, 28enne candidato che si chiama Jordan Bardella, figlio, come dice il suo nome Bardella, è erede di una famiglia italiana e tuttavia pur essendo figlio di immigrati la sua posizione è radicalmente ostile agli immigrati, ma proprio in un modo che non riusciamo neanche a immaginare, propone una diversificazione e meno diritti per chiunque venga e abbia origini non francesi, in un paese in cui i sangui si sono mescolati in tutti i modi, però questa è la sua linea, dicevo il rischio per la Francia e ancora di più per l'Europa secondo me di un governo di estrema destra sono enormi, perché quel partito è quanto di più anti-europeo si può immaginare e quindi se la Francia che è uno dei due paesi che hanno dato origine con la Germania all'Unione Europea, quando ancora non si chiamava così, negli anni 50, qualche modo uscisse dall'Europa o avesse politiche marcatamente anti-europee, questo ovviamente bloccherebbe l'Unione secondo me. Questo giustifica una cosa un po' contro natura, come stare insieme comunisti e Macron che sono come l'olio e l'acqua, perché c'è un obiettivo superiore, cioè evitare di finire in quel guaio serio che sarebbe un governo di destra. È un progetto politico? No. Chi in Italia dice che dovremmo fare anche noi la stessa cosa, secondo me dice una cosa che io non condivido, perché non c'è nessuna vera unità politica di un progetto condiviso identitario tra Macron e la Francia insumis, Melenchon è un leader molto controverso, che ha preso delle posizioni anche antisemite, che ha ablandito per molto tempo l'invasione dell'Ucraina, che propone un programma ipercomunista, Macron è tutto tranne che comunista, quindi insomma vederli insieme ha senso solo per impedire il peggio, è il meno peggio, se dovessero prevalere, che tipo di sintesi potrebbero trovare io non lo so, forse nei miei sogni mi illudo che magari la posizione di mezzo che corrisponde a quella del partito socialista francese, resuscitato letteralmente dalla figura di Raphael Glucksmann, che è mio collega a Bruxelles, cioè un giovane leader molto capace, molto carismatico, ha fatto rinascere letteralmente un partito che era morto, il partito socialista francese, che è arrivato quasi al 14% dei voti all'elezione, europee, siccome sta nel mezzo tra Macron e l'estrema sinistra, io dico ma magari potrebbe essere il punto di caduta, potrebbe diventare lui il primo ministro, magari, sarebbe l'esito migliore di questo grande pasticcio che è successo in Francia, tuttavia secondo me ne dobbiamo riflettere su perché la destra sia stata così, quella destra che non è una destra conservatrice, moderata, Giorgia Meloni al confronto è acqua fresca, perché abbia così successo, perché i francesi si siano messi nelle mani di una leadership così estremista? Io penso che noi dobbiamo fare delle riflessioni molto profonde su come e perché i riformisti liberali o di sinistra facciano oggi fatica a interpretare i bisogni, le paure, le ansie delle persone comuni, se non impariamo la lezione, non troviamo una chiave nostra, questo può ripetersi domani in qualsiasi paese europeo. Certo, e una battuta invece su Inghilterra e America? Oggi 4 di luglio vota il Regno Unito, vota l'Inghilterra con previsioni che dopo 14 anni vedono il partito laborista lanciatissimo, ha 20 punti di vantaggio nei sondaggi rispetto ai conservatori che da 14 anni sono al governo, quindi è un forte cambiamento ed è molto interessante, mentre io credo che il fronte popolare francese non sia in nessun modo una prospettiva politica interessate per noi, credo che sia possibile mettere sotto lo stesso ombrello Renzi e potere al popolo, perché questo più o meno è. L'Inghilterra è interessante molto perché il nuovo labor di Keir Starmer, che è il nuovo leader inglese e che con ogni probabilità diventerà il primo ministro nei prossimi giorni, è un partito profondamente rinnovato rispetto alla stagione di Jeremy Corbyn, nella quale il labor era diventato un partito di estrema sinistra, un partito che voleva nazionalizzare tutto, tasse, spendi, alienandosi in questo modo la simpatia e il consenso della maggioranza degli inglesi. Quel partito così radicale e massimalista ha perso malamente le sue elezioni e per questo Corbyn non è più il leader, aveva anche dei tratti antisemiti che sono costati l'espulsione dal partito poi a Corbyn, ma Starmer è tutt'altra cosa, è un avvocato, una persona molto solida, è una persona che ha riportato potremmo dire un po' più verso il centro il labor, ma soprattutto lo ha riportato vicino alle persone. Io mi sono archiviato un passaggio di un'intervista che ha dato qualche giorno fa in cui lui parla, gli viene detto ma siete in vantaggio ai 20 punti nei sondaggi ma vi accuso di non saper suscitare grandi speranze e lui dice non è vero, noi non dobbiamo suscitare grandi speranze, soprattutto non dobbiamo dire delle cose fasulle alle persone, noi dobbiamo suscitare delle speranze quotidiane, vicine ai bisogni. La gente cosa vuole? La gente vuole potersi comprare una casa, avere una famiglia, avere un salario dignitoso, avere una sanità pubblica che funziona, servizi di buona qualità, sicurezza e poter immaginare che i propri figli possano stare meglio di sé. Il labor è il partito che va incontro a questi bisogni. A me sembra nella sua apparente banalità una dichiarazione così efficace, così poco radical chic, così concreta, da rappresentare secondo me una prospettiva anche per noi, cioè si deve immaginare che tipo di sinistra immagino, che tipo di PD vorrei che fosse il mio partito, penso più ad un partito di questo tipo, che recupera una relazione vera con le persone. Anche poca propaganda? Anche poca propaganda, poi forse Starmer è fin troppo poco carismatico, è un po' grigio, è un po' democristiano, però forse non fa sognare. Blair era uno che suscitava qualche passione in più, va detto. Poi Blair è stato condannato all'inferno per l'errore grave di aver sostenuto la guerra in Iraq, però ricordiamo che Blair vinse tre elezioni di fila, tre elezioni di fila cambiando letteralmente il paese e poi dopo Blair i laboristi hanno sempre perso, tornano a vincere con una leadership che si ricolloca ovviamente che sono cambiati i tempi, nessuno parla più di terza via, ma nella sostanza non siamo molto lontani su quelle posizioni, quindi in grado di parlare anche di un elettorato moderato che in questi anni ha scelto i conservatori e che torna invece a fidarsi dei laboristi. Stati Uniti, Stati Uniti è molto preoccupante, molto. Comunque volevo chiedere questo, spesso quando in questo racconto che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato la chiacchierata c'è una parola che torna, ovviamente una parola anche di paura, che è antisemita. Lei l'ha citata più di una volta, ovviamente su paesi diversi. perché purtroppo l'antisemitismo è tornato, nel senso che l'esito disgraziato della politica del governo israeliano, che è cosa diversa dal popolo israeliano e ancora di più dal popolo ebreo, ma questo governo israeliano è riuscito nella ferratezza della reazione militare a un torto subito, perché c'è sempre quella strage del 7 di ottobre all'origine, a ottenere ciò che probabilmente era il vero obiettivo di Hamas, cioè quello di indurre il governo israeliano a reagire e in modo eccessivo, tanto da suscitarle l'indignazione del mondo. E nel momento in cui si suscite indignazione nei confronti di Israele, in quell'acqua li torna a germogliare anche l'antisemitismo, cioè un sentimento che noi speravamo fosse stato cancellato dopo gli orrori dell'olocausto e che invece ogni tanto riaffiora, che fa sì che ci siano persone di origine ebrea che oggi devono temere per la propria incolumità in paesi democratici, in paesi civili, anche nel nostro insomma è una situazione molto brutta. E ci sono delle forze politiche o dei leader politici che si sono secondo me gravemente macchiati di espressioni, di orientamento contrario alla dignità del popolo ebraico. Però c'è una grande responsabilità secondo me nei comportamenti del governo israeliano che è caduto pienamente nella trappola di Hamas. Hamas ha, secondo me, coscientemente, cinicamente sacrificato migliaia dei propri cittadini civili pur di ottenere l'indignazione del mondo contro Israele. E ci sta riuscendo. Quello che succede nell'università americana, cioè queste rivolte contro pro palestina, in un modo a sua volta estremamente radicale, anti-israeliano, è ciò che Hamas desiderava dal primo giorno. Quando ha colpito nel modo più duro, più crudele, per ottenere questa reazione, la cui conseguenza è appunto la rottura della relazione tra Israele e la cultura occidentale. Molto grave. Stati Uniti… Parlavamo di America? America, stavo dicendo. Situazione molto critica secondo me, perché quello che è emerso nel dibattito televisivo della scorsa settimana è che, da una parte c'era un mentitore seriale, Trump, non si è smentito, ha detto una quantità di bugie, certificate poi dai media americani che fanno fact checking, cioè che verificano ogni affermazione, è veramente impressionante che nel corso di un'ora di dibattito un candidato alla presidenza, un ex presidente, possa dire così tante balle ai suoi cittadini e dall'altra parte un leader molto fragile, molto debole a causa della sua età. Biden ha fatto una pessima figura, è risultato incerto, balbettava, perdeva filo, l'impressione che gli americani hanno avuto è che questo presidente sia troppo vecchio per potersi ricandidare. E quindi è scattato l'allarme in campo democratico, già la partita è molto aperta, non è scontata, sarebbe comunque complicata per i periodi democratici, se poi il candidato dimostra di essere così fragile è una partita facilmente persa prima ancora di giocarla. E quindi è scattata tutta questa discussione sul possibile ritiro di Biden e la sua sostituzione, al momento smentita. Perché Biden resiste? Perché i democratici sono fino ad oggi scesi in campo a difesa di Biden dicendo no, no assolutamente, anche se è sembrato molto incerto e appannato in quel contesto, però resta lui il nostro candidato, perché secondo me non sono in grado di gestire la possibile alternativa, cioè Biden viene da un percorso che è quello delle primarie, in cui stato per stato il candidato è stato votato, si è affermato in larghissima misura, i delegati che sono stati contestualmente eletti e che saranno i grandi elettori nelle elezioni presidenziali di novembre, sono dei delegati di Biden. È difficile traslarli su un altro candidato. E quale? Perché poi a quel punto si apre una contesa all'interno del Partito Democratico tra n possibili candidati. C'è chi dice Kamala Harris che è la vicepresidente, c'è chi dice no però lei non è amata, altri sostengono la governatrice del Michigan, il governatore della California, quello è troppo di sinistra, quell'altro è troppo centrista, il grande sogno probabilmente è quello di una discesa in campo di Michelle Obama, più perché si chiama Obama e perché comunque da First Lady si è fatta molto amare dagli americani, che per provate capacità politiche, poi sappiamo che è un'avvocata importante, ma devi farne la Presidente degli Stati Uniti che probabilmente ne passa. Comunque la situazione è molto incerta, ieri c'era voce di un imminente ritiro di Biden che però è stato smentito, non so come va a finire. In ogni caso io credo che sia abbastanza paradossale che la più grande democrazia del mondo, il paese più importante paese del mondo si trovi di fronte a questa scelta, cioè un delinquente come Trump, un mentitore seriale, una persona pericolosa e dall'altra parte un leader con più di 80 anni, palesemente in declino a punto di vista fisico, cognitivo, insomma poi è chiaro che un Presidente ha uno staff sterminato, ha mille persone che lavorano per lui, non è da solo di fronte alle decisioni, però è possibile che non ci sia in quel paese una persona in salute, nel pieno delle forze che possa rappresentare gli americani. Beh, fa anche un po' strano che è come se se ne fossero dovuti accorgere solo allo stato dei fatti e il tempo ormai stringe. Forse c'è anche l'ego di Biden stesso che non accetta di fare un passo indietro, ma secondo me prevale quell'altra ragione, cioè come facciamo a gestire in pochi mesi la sostituzione, come scegliamo, come evitiamo di trovare, perché Biden comunque tiene tutto il partito, soprattutto in un paese a democrazia bipolare dove ci sono due soli partiti, in realtà c'è anche il candidato indipendente che è il figlio di Robert Kennedy, che però non ha possibilità di essere eletto, ma diciamo due partiti, repubblicani e democratici, sono comprensivi di tante sfumature ovviamente, tante famiglie politiche dentro il cappello di un singolo partito. Quindi nel momento in cui Biden che le tiene tutte insieme si sfila, si apre una possibile guerra tra diverse componenti di quel partito, molto difficile da governare in pochi mesi. L'ultima domanda, torniamo a casa, torniamo in Italia, un'Italia che sembra sempre più polarizzata tra centrodestra e centrosinistra con PD da una parte che ha riacquistato anche importanza, potere, lo raccontano i numeri, la segretaria del Partito Democratico Alice Line ha detto così in maniera anche provocatoria, che forse, ma forse nemmeno troppo al leader Giorgia Meloni, preoccupatevi, stiamo arrivando, quindi da una parte un PD che è tornato o forse è sempre stato in salute, però insomma ha fatto bene, ecco dall'altra Fratelli d'Italia che ha riconfermato quello che è il sentimento anche di una parte dell'elettorato italiano, poco spazio per il centro. È andata bene, è andata bene. Sì, io penso che il centro che non decide da che parte stare abbia poco spazio. È strano perché siamo stati per 50 anni un paese governato dal centro, cioè dalla democrazia cristiana che di volta in volta si sceglieva i suoi alleati. Però, diciamo, nella logica dell'alternanza politica va bene così. Io penso che i partiti liberal-democratici, la cui matrice però è di centro-sinistra perché sia quello di Matteo Renzi che quello di Calenda sono costole staccatesi dal PD, quindi da lì fatico veramente molto a immaginarli dall'altra parte. Ma questo non toglie che appunto, come si diceva, il centro-destra sia comunque molto solido, in particolare visibilmente il partito della Premier. Io credo che quindi sia vero che il PD sta in migliori condizioni che un po' di tempo fa e questo si deve secondo me al concorso di due fattori. La prima è stata la buona campagna elettorale fatta in questi mesi dalla segretaria. Se una delle accuse che si rivolgeva al PD era di occuparsi troppo e solo di diritti civili e si temeva che questa segretaria poi andasse ancora di più in quella direzione e poco di problemi materiali delle persone, è stato smentito, nel senso che Alice Line ha posizionato il PD su dei temi molto concreti. Sanità innanzitutto, perché è un problema che le persone sentono nella loro vita e così il venir meno di una garanzia di sanità pubblica, gratuita, è un dato di fatto. Il tema dei salari, perché è l'esperienza che molti fanno e che guadagnano oggi meno di quanto, in termini reali, meno di quanto guadagnassero dieci anni fa e non va bene, tanti lavori precari ancora. Terzo, il problema della casa, che forse è più delle città che non delle aree esterne, però è un problema molto sentito. Ora basta mettere insieme queste tre cose e hai in qualche modo posizionato il tuo partito in mezzo alla gente e questo spiega un maggior successo. E l'altro è il concorso che noi amministratori abbiamo dato nell'occasione in cui abbiamo misurato la temperatura al partito, cioè le elezioni europee. Nel risultato buono del PD che ha preso il 24%, ci sono tante tante preferenze agli amministratori. Quindi vuol dire che abbiamo messo il nostro profilo bello concreto a favore del progetto partito democratico. Questo vuol dire che il PD ha risolto tutti i problemi? No, perché comunque mancano due cose. Manca una coalizione che abbia i numeri per sfidare quella della destra, perché quei tre partiti che pure abbiamo detto in Europa vanno ognuno per conto suo, Forza d'Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, poi al dunque alle elezioni politiche o regionali stanno insieme e superano tutte le obiezioni. E noi invece siamo qui che dibattiamo, facciamo l'alleanza con il 5 Stelle, con Verdi e Sinistra, con Azione, Italia Viva, ogni volta manca un pezzo. Veti, reciproci, se c'è quello allora non ci sono io e questo fa sì che in realtà il perimetro di quell'alleanza ancora non c'è, anche se la maggior forza del PD avvicina il risultato perché dà un pilastro chiaro, indiscutibile, alla possibile alleanza. Io non ho mai visto una coalizione stare insieme senza una forza trainante. Oggi la forza trainante c'è ed è una precondizione che è soddisfatta. Ma poi bisogna superare i veti, questo lo ha detto anche Elis Lane e mi sembra già un passo in avanti, bisogna vedere se effettivamente gli altri superano i veti perché se Conte comincia a dire se c'è Calenda io non ci sono, se Calenda dice se ci Conte non ci sono siamo da capo. Io dico che manca un altro pezzo e finisco ed è un progetto di governo, cioè non è sufficiente dire questo non va, questo non va, questo non va, che è quello che stiamo facendo noi. La sanità non va, è vero. Il problema della casa non viene affrontato dal governo, è vero. I salari non sono adeguati al costo della vita, è vero. Stiamo dicendo le cose vere ma che non sono un progetto di governo. Ora, finché noi facciamo capire agli italiani che abbiamo anche un'idea su come risolverli quei problemi, date tutte le compatibilità, i vincoli economici, il fatto di stabilità perché non è che possiamo dire spendi, 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 il bilancio dello Stato è quella roba lì e oggi è tornato ad essere sottoposto a vincoli europei perché non possiamo indebitarci ancora, visto che siamo il paese più indebitato d'Europa. Noi dobbiamo ridurre il debito, non aumentarlo. Quindi secondo me manca per essere convincenti fino in fondo l'espressione di un progetto di governo del paese che affronta quei problemi, dà loro soluzioni facendo delle scelte perché ovviamente soldi per tutto non ci sono. Abbiamo ancora tre anni di tempo per arrivarci. Per lavorare, per lavorare. Grazie mille a Giorgio Gori per essere stato con noi. Grazie per questa chiacchierata, spero è stata lunga, spero non sia stata noiosa. È stata lunga, non è stata noiosa, è stata interessante, serve a capire in che direzione si va perché poi non c'è solo quella dell'Italia ma ovviamente fuori c'è anche un mondo per cui va bene così. Grazie mille. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.